Ben ritrovati per una nuova puntata di Coldiretti Flash. Aumentano gli acquisti di prodotti alimentari low cost nei discount con un più 1,6% nel 2013 e in parallelo salgono del 3% le segnalazioni di allarmi alimentari in Italia e soprattutto del 14% superiori a quelle prima della crisi nel 2008. Vediamo insieme il servizio. Cresce di anno in anno il numero delle notifiche nazionali al sistema di allerta comunitario per la prevenzione dei rischi alimentari e il quadro che emerge fa riflettere. I dati Istat relativi al commercial dettaglio nel 2013 confermano il vero boom delle vendite nei discount in netta controtendenza con l'andamento generale del commercial dettaglio. La crisi porta a dire addio al negozio di fiducia e crescono le vendite dei prodotti low cost nei discount alimentari con 6 famiglie italiane su 10 che hanno tagliato quantità e qualità degli alimenti privilegiando nell'acquisto prodotti offerti spesso a prezzi troppo bassi per essere sinceri che rischiano di avere un impatto sulla salute. Il consiglio al consumatore è quello di verificare sempre gli ingredienti e la provenienza in etichetta, preferire l'acquisto di prodotti freschi o comunque poco elaborati e che non devono aver subito lunghi trasporti, magari nei mercati degli agricoltori di campagna amica, di fidare dei prodotti che costano troppo poco come certi extravergini che non coprono neanche il costo della raccolta. E ora vi presentiamo un'utile opportunità per tutti i pensionati che siano anche associati a Coldiretti. Si tratta della carta vantaggi, vediamo nel servizio tutte le informazioni a riguardo. L'iniziativa ideata dall'Associazione Regionale Pensionati Piemonte in collaborazione con Coldiretti Pensionati Cuneo permette di avere accesso ad una serie di convenzioni stipulate a livello locale con diversi fornitori. Nello specifico i soci che la richiederanno potranno usufruire di riduzioni o condizioni agevolate in diversi settori quali la sanità, negozi agroalimentari, agenzie e viaggi, consorzi agrari, ecc. Tra le convenzioni sono anche presenti vari punti di campagna amica che offrono sconti sull'acquisto di prodotti freschi e locali direttamente in azienda oltre che agriturismi sempre del circuito di campagna amica. I pensionati possono ritirare la carta vantaggi direttamente negli uffici zona Coldiretti. La carta è gratuita. La relazione annuale sulla distribuzione dei pagamenti diretti da parte degli Stati membri e con i dati definitivi per il 2012 pubblicati dalla Commissione europea per la PAC evidenzia che è aumentato l'importo medio dei pagamenti diretti. Vediamo insieme il servizio. Con gli strumenti della nuova PAC, concordata nel 2013 dalle soglie interne ed esterne di convergenza alla degressività dei pagamenti, i pagamenti diretti saranno distribuiti in una maniera più equa tra gli Stati membri, tra le regioni e tra gli agricoltori, con un ulteriore spostamento che si allontana dal riferimenti storici. Se l'importo medio del sostegno dei pagamenti diretti erogati agli agricoltori è aumentato, in particolare negli Stati membri che hanno aderito all'Unione europea nel 2004 e nel 2007, la relazione mette in evidenza una considerevole variazione della distribuzione tra i beneficiari in ciascun Stato membro. In media, prendendo in esame la classe dei pagamenti diretti di importo pari a 5.000 euro, circa l'80% dei beneficiari riceve circa il 17% dei pagamenti, mentre per l'Italia circa l'87% dei beneficiari riceve il 25,5% dei pagamenti. Quindi, per importi sopra i 5.000 euro, il 13% dei beneficiari riceve il 74,5% dei pagamenti. E' tutto per questa edizione di Coldiretti Flash, vi ricordiamo che può anche essere rivista sul sito www.piemonte.coldiretti.it